Vescovi custodi del soffio dello spirito che sconvolge la vita, la consola e la rasserena. È la prima delle molte definizioni che Papa Francesco offre ai nuovi Vescovi nominati nel corso dell'anno e ricevuti in Vaticano. A loro raccomanda di sentire sempre l'appartenenza alla comunità, soprattutto per affrontare le sfide dell'oggi, le migrazioni, la cura del creato, la mancanza di lavoro, lo smarrimento dei giovani. Non risparmiatevi, è l'esortazione del Papa che invita i Vescovi a farsi pedagoghi, catechisti, guide spirituali in grado di accompagnare i fedeli nella salita, ma sempre con la gioia del cristianesimo nel cuore, una gioia che trascina, incanta e rapisce. I Vescovi, aggiunge, devono essere missionari in cerca dei fratelli lontani dalla fede, capaci di fare breccia nei loro muri, ma anche sulle orme di chi si è allontanato dalla Chiesa. Non pochi sono usciti sbattendo la porta, rinfacciandoci le nostre debolezze e cercando, senza riuscire del tutto, di convincersi che si erano lasciati ingannare da speranze alla fine smentite. Siate, Vescovi, capaci di intercettare il loro cammino. Fatevi pure voi viandanti apparentemente smarriti, domandando che cosa è successo nella Gerusalemme della loro vita e discretamente lasciando sfogare il loro cuore infredolito.